Dopo la lunga assemblea alla Terramo Ambiente in cui si è discusso dei punti all'ordine del giorno, approvazione del bilancio presa d'atto della revoca del Presidente Pietro Bozzelli e nomina del nuovo Presidente designato dal Comune di Terramo, Luca Ranalli, i sindacati sono nuovamente tornati a chiedere l'attuazione di diritti dei lavoratori, ma anche un ulteriore incontro per capire i possibili scenari della società compartecipata dal Comune di Terramo, visto che nella lunga assemblea per la prima volta nella storia della Terramo Ambiente, il bilancio è stato approvato senza il voto favorevole del Comune. Le richieste che noi abbiamo fatto all'amministratore delegato attuale è ancora più pregnante in quanto si sta andando verso il periodo estivo. Adesso il CDA della TEAM è fatto, c'è il Presidente, noi ci aspettiamo che il Presidente ci convichi a certo giro di posta. Il 12 comunque c'è un'ulteriore riunione con il Sindaco, per cui in quella sede se noi non avremo delle risposte positive alle nostre richieste, che poi in questo periodo è il piano ferri che deve essere rispettato, e alcuni mezzi che devono essere aggiustati in officina, è chiaro che poi al Sindaco diremo quello che faremo. Ovviamente se non ci saranno poi le risposte, come già avete annunciato, ci saranno anche delle proteste importanti. Certo, ci saranno delle proteste importanti e delle proteste eclotanti, perché non è possibile che come noi abbiamo più volte detto che con l'allerta meteo i giornali dicono di stare a casa nelle ore più calde della giornata, nelle ore più calde della giornata i lavoratori dell'igiene ambientale stanno lavorando per tenere le città pulite.